Autostandar promuove l'operazione quattro ruote per quattro zampe. La concessionaria DR di Torino e di Moncalieri Autostandar contribuisce alla produzione televisiva di quattro zampe in tv, video adozioni, la trasmissione che da dieci anni presenta i cani in adozione dai canili in tutta Italia. Autostandar, un'azienda che ama i nostri amici a quattro zampe senza famiglia, che hanno diritto ad un futuro migliore. Grazie di cuore Autostandar. Bentornati, bentornati a tutti voi in questa fantastica giornata di sole, vicino a Cuneo, dunque la cuccia Cervasca. Ciao Umara. Ciao Francesco, tutto bene? Assolutamente sì. No, cuccioli, 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 tutti adottati. Ci sono anche cani adulti, ci sono i cani che hanno bisogno di essere adottati. I cuccioli sì, non devono crescere in canine, ma guardiamo anche agli altri. Sì, soprattutto quelli che come lei hanno perso tutto in un secondo. Caia è una cagnolotta che era stata presa cucciola, ha vissuto tutta la vita in appartamento col suo papà umano, vivevano in 40 metri quadri, quindi niente di particolarmente enorme. In un attimo le è crollato il mondo addosso, il proprietario ha preso un infarto, è morto e lei è rimasta da sola. Ci siamo conosciuti ora a carattere di estrepitoso. Sì, con le persone è dolcissima. Non è stata abituata con altri cani perché era figlia unica, quindi non sappiamo di preciso effettivamente come potrebbe reagire con altri animali in casa, però con le persone straordinarie. Ha proprio bisogno del contatto, cerca costantemente il contatto delle persone e sta soffrendo, piange tutto il giorno. Certo, la sua famiglia oggi è il rifugio, domani potrebbe diventare una nuova famiglia. Sì, famiglia che può anche essere semplicemente due cuori e una capanna. C'è lei e il nuovo papà o mamma, anche perché non è un cane eccessivamente difficile da gestire, è stato abituato bene, ha bisogno magari di qualche regola in più perché il signore l'ha amata talmente tanto da viziarla forse un po' troppo, però è una cagnolotta che sa dare tanto e ha bisogno di dare tanto. Per fortuna i cuccioli comunque se ne sono andati. Sì, tutti, 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 sia le quattro bimbette che abbiamo presentato in ufficio in braccio e anche i tre che avevamo presentato davanti alla porta del rifugio, quindi Isca, Spike e Lucky, tutti e tre adottati, e anche Clio, Kendra, Musa e Kaila hanno raggiunto le loro famiglie. Che sfilata che ha di più? Più Susan e Terence, che avevano anche loro perso il loro papà umano e che adesso hanno trovato due nuove famiglie. Grazie, ovviamente grazie di cuore a tutti voi. Che scaletta hai preparato oggi? Allora, oggi partiamo con lei perché tutti sono bisognosi, ma qualcuno che perde ha bisogno più di tutti gli altri. Poi ci sarà una rassegna di cani nuovi che sono arrivati da poco, ne presenteremo alcuni di quelli più vecchi che hanno bisogno anche di avere nuova visibilità e poi chiuderemo con i cuccioli perché quelli non mancano mai. Via la sfilata! Bene, diamo il via alla sfilata, una sfilata in nero, diamo il benvenuto a Giorgia che ci sta presentando Nerina. Sì, Nerina di nome di fatto, è una cagnolina che era sul territorio, al sud Italia, viveva libera, però nel quartiere dove stava l'avevano già minacciata di avvelenamento e quindi le volontarie per paura che facesse una brutta fine ci hanno chiesto di farla arrivare. È una cagnolina giovane, già sterilizzata, sana e dolce, ancora un po' titubante sul guinzaglio anche perché è arrivata da poco e ovviamente era abituata a star libera, quindi pian pianino ci stiamo lavorando su. Però è molto dolce, coccolona, ha bisogno di affetto e a questo punto di una casa perché non deve più essere costretta a rubare per mangiare, sopravvivere. E tocca ora la mascherina che mi dicevi, ho fatto il viaggio con Nerina. Fanno anche rima così, anche lei viveva per strada, nello stesso posto dove viveva anche Nerina, si facevano compagnia, sono state minacciate tutte e due di avvelenamento e quindi le volontarie le hanno mandate qua da noi. Lei è arrivata, che è un po' più provata dal viaggio, era un po' più spaventata, invece adesso come dimostra si è rilassata e ha deciso che il posto le piace tutto sommato. Il clima è anche buono, quindi non ha patito così tanto. Ha bisogno di casa. E coccole. E coccole, le sta chiedendo in tutti i modi possibili e immaginabili. Quindi famiglia, coccole, cibo, amore. Ed ora Alessandro con un elegante guenzaglio rosso ci presenta Noctis, il nero soprattutto. Il nero è sempre elegante e sfina, dicono. In effetti lui dall'ultima volta che l'abbiamo presentato è dimagrito tantissimo, ovviamente il cane. Comunque l'altra volta l'abbiamo presentato con suo fratello, questa volta proviamo a presentarli separatamente, magari riusciamo a toccare un po' di più i cuori. L'abbiamo fatto dimagrire, si è calmato, si è tranquillizzato abbastanza, comunque sempre tanto giovane e esuberante, ha bisogno di andare a casa. Lui qua gli spazi ristretti gli stanno stretti in tutti i sensi e quindi ha bisogno finalmente di trovare il suo posto. Grande, piccolo che sia, l'importante è che sia grande il cuore che lo adotta. Possiamo dire lussi la dolce? Lussi la dolce, lussi la buona, lussi tutto quello che vuoi dire perché è un cane fantastico. L'avevamo presentata col fratello, adesso ve la presentiamo singolarmente per farla vedere in tutta la sua bellezza. Due anni, mix mare e mana, lupo svizzero. Vado d'accordo con tutti, una gran giocherellona, già sterilizzata, socializzata, con persone e tutto. Era quella che era stata tolta al maltrattamento, arrivata qui che pesava 15 kg. Ora li abbiamo recuperati abbondantemente, siamo sui 25, una taglia media di quelle un po' tendenti al grande, però di una bontà infinita. Speriamo che stavolta trovi il cuore giusto, che le dia quello di cui ha bisogno, cioè veramente di tanto amore e tante coccole. E risaputo la timidezza non aiuta, soprattutto non aiuta l'adozione. Con led comunque, con coccole e qualcos'altro possiamo provarci. Sì, lui è come un Lindor, un po' più duro fuori ma con un cuore morbido dentro. Bisogna solo riuscire a spezzare questa sua crosticina esterna un po' più rigida perché il passato suo sicuramente non gli ha dato fiducia nelle persone. Quindi ha bisogno di un po' di tempo per capire che si può di nuovo fidare e che quindi può liberare tutto il suo amore. Con noi è già migliorato tanto, con i volontari nuovi ci mette un attimino. Chi dovesse venire ad adottarlo deve dargli ovviamente i suoi tempi. Quindi magari conoscerlo un po' di più, dargli la possibilità di avere spazio e tempo da poter imparare a gestire le sue emozioni. Ma è un cane che una volta che prende confidenza dà tanto e sa dare tanto. Dolly è una cucciola a fine crescita. Sì, c'è da sperarlo anche perché è già bella grossa di su e ha una forza non indifferente. Però è buonissima e dolcissima. Era stata adottata, diventando grossa e grossolana ha spaventato la famiglia che l'aveva adottata ed è stata rifiutata. Adesso cerchiamo nuova famiglia, magari un po' più consapevole della sua dimensione e quindi anche delle potenzialità perché ovviamente cane grosso se ti salta addosso c'è il rischio che possa far male. Non perché lo voglia fare ma perché l'amore è quella che ha bisogno di regole, ha bisogno di spazio e ha bisogno di pazienza e amore. 9 mesi ha tutto il tempo per imparare. Ripresentiamo Bill? Sì, lui adesso è da tanti anni che è qui che aspetta. Era stato tenuto fin da cucciolo a catena, è arrivato qui che aveva un anno e mezzo. Adesso andiamo quasi per i 9, quindi direi che è arrivato il momento per farlo andare a casa. È un cane comunque molto rustico, non ha necessità di appartamento o di grandi cose sfarzose. Lui ha solo bisogno di un posto dove poter correre finalmente libero e riscattarsi appunto almeno dell'anno e mezzo vissuto a catena. Poi qui da noi sfogo gli ne diamo, però il box è sempre un box e per quanto li teniamo bene una casa è una cosa migliore. Potremmo oggi considerare l'adozione di pina necessaria? Necessaria, per lei indispensabile, dopo essere passata da una realtà del sud, vissuta sul territorio, a un box del nord, nella speranza di direi che adesso riuscire finalmente a dar concretizzazione alle sue speranze e doveroso nei suoi confronti. Ormai sono tre anni abbondanti che è qua con noi, è arrivata che va un anno e mezzo, ha fatto tantissimi progressi, è arrivata che era terrorizzata del mondo intero, adesso invece sa dare molto e ricevere anche molto, è giusto che trovi il suo giusto collocamento nel mondo che non è ovviamente stare qua con noi. Quindi preghiamo tutti che la vedano, che ci chiamino e che riusciamo a farla andare finalmente a casa. Come promesso concludiamo con i cuccioli di varie taglie già. Sì, sì, le taglie qua sono già un po' più certe, anche perché variamo tra i 4 e i 6 mesi, a parte il nostro grosso babysitter che ha un anno, e abbiamo varie scelte di colori, di sessi e di taglie appunto future. Iniziamo con Siria, la cucciolotta nera, lei ha 6 mesi, quindi rimarrà una taglia medio contenuta, un po' timida inizialmente ma molto dolce. Di fianco a lui, un po' più esuberante, si è avvicinato Nemo, anche lui ha 6 mesi, arrivano tutti e due dallo stesso rifugio del sud Italia, da Enna, e poi abbiamo, un po' più qua vicino, sempre di fianco a Siria, c'è la sorella Asia. Il fratello è già stato adottato, quindi sono rimaste loro due. Anche lei, 6 mesi, taglia medio contenuta. In secondo piano, un po' più indietro, che si sta facendo benamente i fatti suoi, c'è Lola, lei è l'ultima di 4 cuccioli che sono arrivati di 4 mesi, quindi lei rimarrà una taglia un po' più abbondante, perché è già grossa come loro che ne hanno solo 6. E poi c'è il nostro intramontabile babysitter, che è più cucciolo dei cuccioli, però è di una bontà infinita. Un anno, lupo, lo riproponiamo, sperando che stavolta sia la volta buona. Ha una sopportazione infinita con tutti questi piccoli, e va d'accordo con tutti, ha bisogno anche lui di andare a casa. Bene, loro da cuccioli hanno trovato le libertà in canile. Non è un paradosso, ma è semplicemente il modo in cui vengono gestiti, in questi ampi spazi, ma facciamo in modo che non finiscano le box che sono alle nostre spalle, che piano piano si dovrebbero svuotare. Sì, i box devono svuotarsi e loro, se crescono, purtroppo andranno a sostituire quelli più grandi. Quindi speriamo sempre che vadano a casa prima di questo passaggio traumatico. Questo è il nostro impegno, grazie alla collaborazione di tutti coloro che ci stanno ascoltando, al di là degli schermi. Sì, anche perché grazie a loro ne sono andati a casa tantissimi, e quindi cerchiamo di aumentare questi numeri. Certo, un grazie di cuore per l'attenzione, per l'intenzione di adottare, ovviamente per chi è già adottato. Un grazie di cuore a voi, tutti i volontari che alle spalle lavorano, e ci vedremo tra un mesetto. Noi siamo qui che vi aspettiamo. Bene, grazie, ciao. A voi, ciao. Grazie a tutti voi per l'attenzione, buona adottazione a tutti, rivediamo i nostri amici. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'Automobile Club Torino, che patrocinia dalla nascita videoadozioni, ha deciso di pubblicare sul proprio sito acitorino.it le nostre trasmissioni. Da sempre l'ACI Torino è impegnato nella campagna contro l'abbandono degli animali lungo la strada, perché sono causa certa di incidenti. Ringraziamo l'ACI per la collaborazione e per il contributo alle adozioni. Grazie a tutti.